Alessandro Cerrato il migliore in campo della partita vinta da Yammer 69 di misura nonostante una grandissima prestazione dei bianconeri super portiere che ha un rigore parato all'attivo dici due parole su questa partita è stata una partita difficilissima anche perché abbiamo giocato per tutta la partita con uno in meno è stato determinante esergenze nel secondo tempo che ha tenuto palla siamo riusciti a scappare questo risultato ok, allora dici ancora una volta qualche ambizione per quest'anno il prossimo treguardo raggiunge sarà la convocazione nazionale del torneo speriamo proprio di sì ok, allora in bocca al lupo, grazie